50 anni di innovazione e passione per il lavoro. L'agerotto Federico SRL taglia il traguardo del suo primo mezzo secolo di attività. Cinque decenni di edilizie metalmeccaniche e commercio di strumenti speciali per cantieri delicati, celebrati con una grande festa al centro congressi di Padova. Il segreto per un'azienda di successo, passione per il lavoro e continua spinta ad innovarsi. Cerchiamo di sviluppare ancora di più l'automazione su lavori di edilizia che hanno ancora tanta manualità, questo è il sogno del futuro. Venire a lavorare in Gerotto vuol dire partire da una conoscenza veramente dettagliata di quelle che sono la meccatronica, tutto il lavoro della parte meccanica e soprattutto dell'approccio concreto nei lavori che si può tradurre in un qualcosa con cui le idee possono finalmente diventare concretezza nei prossimi anni. Sono stati fino al 2023 degli anni interessantissimi, belli, però si sta avvicinando un'ondata che ancora non abbiamo capito. Dobbiamo insieme a tutti gli ordini professionali e all'università e soprattutto alla politica cercare di identificare quello che sarà il futuro. Con circa 80 lavoratori l'azienda Gerotto si è saputa ritagliare un posto di primo piano nel mondo dei cantieri edili in Veneto e non solo. Una vera eccellenza del territorio che ha fatto della metalmeccanica il proprio successo e che ora punta a diventare ancora più competitiva attraverso il passaggio generazionale. Questi miei ultimi anni sto portando avanti questa politica di passaggio generazionale che non è semplice soprattutto perché le nostre regolamentazioni in Italia non agevola questi passaggi, tende a complicarli più che a semplificarli. Al centro congressi di Padova decine e decine di professionisti si sono radunati per celebrare 50 anni di successi ma anche per lasciarsi ispirare da un'azienda che continua a produrre valore economico, un beneficio per l'intero territorio. A tutti gli effetti noi abbiamo a che fare con quello che è il classico esempio del modello dell'economia veneta, un'azienda che è nata 50 anni fa, che si è evoluta con un grande tipo di creatività e a questo punto dopo 50 anni ha consolidato assolutamente la sua presenza del territorio. Per Confindustria è un onore rappresentare queste aziende che arrivano a un traguardo così importante che però in realtà conoscendo l'azienda non è un traguardo ma sarà un ulteriore punto di partenza, un'azienda che in questi 50 anni ha continuato a investire, a innovarsi e quindi non è un traguardo ma un punto di partenza ulteriore. Confindustria sta a fianco di tutte le aziende, delle aziende che vogliono innovare, affrontare le sfide internazionali nel mondo, noi ci siamo e siamo a loro fianco. Grazie a tutti.